Ogni anno a Pagani, nel cuore dell'agronocellino sarnese, subito dopo Pasqua, si rinnova uno dei più originali eventi della tradizione religiosa legato al culto della Madonna delle Galdine. Durante questo evento il paese si riempie di un profumo inebriante di carciofi arrostiti che diventano i veri protagonisti di una delle feste più vivaci del sud. Mamma che carciofi! Il carciofo fa parte della dieta mediterranea ed è ricco di endossidanti, fibre e vitamine. La sua coltivazione promuove l'agricoltura sostenibile poiché è caratterizzata da pratiche sostenibili rispetto all'ambiente. Ha ricevuto la certificazione IGP. Mamma che carciofi!